Si è trattato con molta probabilità di un atto intimidatorio e massimo il riservo sull'inchiesta avviata dall'arma dei carabinieri di Avellino per risalire a coloro che hanno piazzato un pacco bomba al civico 50 di via Tagliamento, a pochi passi dal tribunale. Nell'androne del palazzo, sette piani con pochi appartamenti familiari e per lo più sede di uffici e studi professionali, l'ordigno è stato ritrovato al di sopra delle cassette postali. Ad accorgersi della presenza dello strano congegno un inquilino che ha notato il voluminoso pacco dal quale fuoriuscivano i fili tipici dell'ordigno rudimentale. L'allarme al 112 è scattato verso le 15.30 di ieri pomeriggio. Dall'ora in poi si sono vissuti momenti di panico e agitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. La zona è stata transennata e l'ala sinistra del palazzo, la scala A, è stata fatta evacuare per precauzione, in attesa dell'arrivo degli artificieri da Napoli che hanno verificato il contenuto del pacco, poi fatto brillare poco prima delle 18 nel retro del palazzo. Per evitare un'eventuale onda d'urto al momento dell'esplosione si sono prese le dovute precauzioni, come l'apertura delle porte e delle finestre. Un episodio gravissimo che avrebbe potuto avere delle serie conseguenze, ora resta da capire il motivo alla base dell'atto intimidatorio. Potrebbe trattarsi di una vendetta personale nei confronti di qualche condomino, oppure ragioni legate all'attività professionale dei diversi studi che hanno sede nel palazzo.